Perché si è dimesso? Perché ha ottenuto un collegio, mi dicono, sicuro, blindato per Ruggero Razza, e quindi il primo che fa protetto. E lui è stato promesso al buon Musumeci di fare il sottosegretario. Non so se alla deficienza politica, questo poi lo vedremo, dove lo manderanno, lo manderanno agli esteri, buh, non lo so. Però questo è ciò che è riuscito ad ottenere. Ovviamente rimane Marco Intravaglio, non so come si chiama, il suo segretario particolare è disoccupato, questo ovviamente è un problema, è una mina vagante questa storia, perché il suo segretario particolare comincia a parlare, chissà cosa succederà, cosa succederebbe, e quindi ancora c'era questa questione, l'hanno tirata per qualche ora. Però più di promettergli di continuare a fare il portaborse, praticamente non hanno potuto fare, quindi anche il collegio, il posto blindato per il suo segretario particolare è saltato. Era questo ciò che portava in queste ore a discussioni, a tira e molla. Quindi alla fine Musumeci si dimette perché ha ottenuto questo strapuntino, ha blindato razza e lui intanto si è garantito altri cinque anni comunque di poltrone politiche attraverso quella che comunque è sto ruolo di sottosegretario.